Il San Maurizio Canavese si conferma squadra ostica e difficile da affrontare e costringe lo Stresa ad un pareggio quando già la squadra di Galeazzi assaporava la vittoria. Anche a Stresa, come su tutti i campi, la domenica si apre con le parole del diario di Anna Frank, il simbolo assoluto della Shoah. Poi si gioca e dopo appena tre minuti, Bernabino smarca Faraci che trova l'opposizione di Capello in uscita bassa. Al diciannovesimo gli ospiti si affacciano dalle parti di Barantani. Trentinella gioca di sponda per Ravizza che esplode un raso terra che viene ben assorbito dal portiere di casa. Piccolo problema fisico al ventiduesimo per il portiere ospite Capello, che resta a terra qualche minuto dopo un rinvio sulla tre quarti, per poi riprendere il suo posto a difesa dei pari. Capello dimostra di essere completamente ristabilito e al trentaseiesimo è tempestiva la sua uscita bassa ad anticipare Bernabino servito nello spazio da Giglio. Poco prima dell'intervallo il San Maurizio passa in vantaggio. Palla messa in mezzo da Carlos Torre dalla destra, a centrale Cigna svetta più alto di tutti e, appunto, di testa gira alle spalle di Barantani. Si va allo riposo sullo 0-1 e dopo pochi minuti che è iniziata la ripresa, Galeazzi si gioca la carta bruniera. Al quinto lancio millimetrico di Agnesina per Lionello, sul quale esce alla disperata Capello, che salva il risultato e resta ancora a terra dolorante. Lo Stresa pareggia quando scocca l'ora di gioco. Cross di Bruniera dalla sinistra e incornata di Faraci alle spalle di Capello. Al ventunesimo lo Stresa ribalta la partita, punizione di Agnesina dalla tre quarti, Riccio sfiora di testa e beffa Capello. Resta qualche dubbio sulla paternità del gol, ma l'esultanza del difensore centrale dello Stresa lascia intuire che il gol sia suo. In una partita corretta e senza ammunizioni, almeno fino alla trentatresimo della ripresa, viene allontanato per proteste Andrea Di Muro, il tecnico del Samorizio Canavese. Bruniera dalla sinistra, cross a rasoterra per Bernabino, che ci mette il piede, ma conclude fuori quando il cronometro indica 34 minuti. Il nervosismo a bordo a campo continua e al quarantunesimo viene allontanato anche Pippo Biscuola, il DS dello Stresa. Al quarantatresimo cross di Machetta e colpo di testa di Lauria con palla sul fondo. La beffa per i padroni di casa arriva al primo minuto di recupero. Cross di Ravizza e girata vincente di Trapella per il definitivo 2-2.